Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Non si placa la polemica tra maggioranza e minoranza all'interno della comunità montana Valtellina di Morbegno. Altro capitolo di questa diatriba infinita, l'assemblea ha convocato ieri sera in seduta ordinaria in modalità online. Diversi punti all'ordine del giorno, ma la vera notizia è stata la mancata partecipazione dell'opposizione, rappresentata da nove comuni, Albaredo, Andalo, Ardenno, Buglio in Monte, Mello, Piantedo, Rogolo, Pedesina, Talamona. Le motivazioni sono state spiegate in una lettera firmata da Laura Bonat, capogruppo del gruppo consigliare Impegno per il Territorio. Riguardano soprattutto la richiesta di assemblea che noi abbiamo presentato, di convocazione di assemblea, che abbiamo presentato tra fine aprile e i primi di maggio. C'è stata una querella sul numero delle richieste, che a detta del Presidente sarebbero state otto, invece noi sostenevamo che erano nove, ed effettivamente dopo due mesi siamo riusciti a far capire che effettivamente erano proprio nove le richieste. Abbiamo proposto tre conferenze dei sindaci, di cui una con la minoranza presente, che però non ha dato nessun contributo, e due disertate dalla minoranza stessa. Speravo che la serata di ieri, con tutte le difficoltà che ci potevano essere, legate un po' al clima atteso che si è creato in questi ultimi giorni e al fatto che era online, ci permettesse però di poter comunque riprendere un dialogo che secondo me è fondamentale. L'ottavo e più rilevante punto all'ordine del giorno, incentrato su una proposta del gruppo di minoranza, non è così stato discusso. Definizione di un programma di contrasto agli effetti provocati nel mandamento di Morbegno della pandemia Covid-19 in ambito socio-economico e individuazioni delle opportune e necessarie linee operative era il tema caldo dell'Assemblea, archiviato con amarezza dal Presidente dell'Ente Montano, Emanuele Nonini. La riunione è convocata alle 9 di sera del 30 giugno che relega al penultimo posto e all'ordine del giorno un argomento per noi essenziale. Non è stato facile prendere questa decisione però detto in estrema sintesi e forse anche con qualche ruvidità abbiamo deciso che non avevamo intenzione di farci prendere in giro da questa maggioranza. Fondamentale al più presto trovare un punto di incontro tra i due gruppi. Una CM spaccata non aiuta sicuramente il territorio. E sarà mia premura immediatamente, se non questa settimana e inizio della prossima, contattare il capogruppo per cercare veramente la possibilità di dialogare perché siamo comunque tutti amministratori che lo facciamo per spirito di servizio, per passione e quindi secondo me si tratta di trovare il modo per superare questo scoglio, ricominciare o comunque cominciare a dialogare serenamente e seriamente come il nostro territorio merita. Perché questa divisione, come dire, alla fine fa disperdere energie a tutti. Noi la disponibilità la diamo, però non siamo intenzionati, siamo nove comuni, rappresentiamo una buona fetta del mandamento sia territorialmente che come popolazione, non siamo disposti a prendere le briciole che ci vengono lasciate.